Ottimo lavoro, bravo affidato! Ah scusiamo ma io non capisco! Ma il corpo è rischio! Fidati! 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 No mamma! Ma che è il tuo visto? Vuole sapere se ha freddo con le pericoli con queste entrate? Beh! E che soffressare? Ah! Ma ce l'hai comprimato! Donnello ma questo che sta dicendo? Donnello ma questo dove viene? Ma tu chi è? Calma! 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 No mamma! Che è il cicciuliano? Che sta? Ah come stiamo parlando di lui francese? Eh ci sto anche io! Me lo vedo che io no? Parli francese! Che ci vuoi parlare francese? No! Allora! Sii down! Sii down! Sii down! No! Sii tutti scena! Assettate! 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 E... E' francese! Capisce? Nurente! Allora! Allora! Signore! Vostro figlio! Non c'è nessun pericolo! E mi spiega! E mi spiega! E mi spiega! Perché? No! Pac! Pac! E mi spiega! Abre le basco! E fèta ancora non! Signore! Capacca! 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 E poi, ha già dimostrato, ha già dimostrato, ha già dimostrato. Aspetta, chi è non chiede? Stai signore, no, state zitte, zitte, state, parla francese. si parla, ha già dimostrato molto molto per un lavoro fatto allo confine Ah, ma sei con me! E' bello, ri ri ri, agapaitri, agapaitri, meno male, meno male Ah, un'altra cosa, mi stavo scordando meglio ma vieni un po' cacchiepe Adesso, iss, è un permesso Ha parlato barretto, parlano francese, parlano barretto Non voglio credere, facciamo qui Zitti e fermi Adesso, l'office è un permesso Ma ieri, no, ieri, 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 ieri No, ieri, 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 ieri Insomma a me, signor, a me, mua, mua So proprio te sicuro che prima puoi, lui Oh, ma no, lui, no, Gigi Alfredo Ma che si batta a fare questo Ehi, eh, lui, eh, questo Ma no, Alfredo Oh madonna mi, ma lui Alfredo è sempre gli stesso, no? Ehh, è sempre questo, è sempre questo Che prima puoi lui, eh, Alfredo, Alfredo A tutta questa gente a chi parrà Sicuramente, sicuramente Ia Ma questa volta non ho tanto capito Ma allora che se n'acca a fuori, francesi Comissario ha cominciato a spiegare, signor, parli francesi Signor Eh, le commissue Le commissua Vabbè, ah, signor, insomma, chissi A me vuole pariscere, ah Ah, il Alfredo, chissi Prima o poi, tutti questi falsoi Falsoi Con la sua intelligenza A capa rossa A capa rossa Agilità E gran capacità Totale Niente di meno Figli uossi Li farà arrestere Evviva la Torre Ester Avviva la Torre Ester